Ehi, che fai? Mi stavo preoccupando. Niente, sto pensando. Ok, ti lascio sola. Sai cosa vuol dire essere bocciato? Credo. Io invece sì. È così brutto. Devi fare tutto di nuovo. Un altro anno in quella stupida scuola. E non voglio più farlo. Non un'altra volta. Mancano pochi giorni e... Faremo gli esami. Ogni notte vi spaccate con Netflix e poi uscite senza mai studiare. Siete calmi. E invece io studio. Mi sto spaccando. E invece voi no. Non capite che ora... Dovete iniziare a studiare. Ripetene tutto il programma. Pensavo che lo sapessi. non c'è più tempo. Dovete fare le tesine. Ed è per questo che l'ho detto ai tuoi. Ti ho raccontato tutto. Avanti. Non ho capito. Ho detto ai tuoi che non studi. Ho detto a studiare. Hai detto cosa? Studia. Ma che... Hai fatto? Per favore non farti bocciare. Ma che... Ma che... Quattro... Quattro...